Damiano Cunego, un'incredibile performance qui a Grosse Schaidec, come fu la tua gara oggi? Si dai, una grande corsa, un attacco in salita, cercando di riprendere i fuggitivi, non era una cosa facile. Abbiamo vinto questa maglia e cercheremo di conservarla anche se non sarà facile. So you took a lot of risk in the downhill, you were sometimes near at the crash, how was it for you? Si, beh, sono rischi calcolati, in discesa so andare abbastanza forte, però anche gli altri, hai visto Saga, è andato ancora più forte di me, quindi qualcuno ha preso anche più rischi di me, comunque va bene così. Are you disappointed that you didn't win the stage? Eh, avrei voluto vincere anche la tappa, però se arrivi in volata con un velocista, un sprinter puro come Saga, è difficile batterlo. Mi ha già battuto diverse volte e poi l'arrivo anche in leggera discesa, perciò era favorevole a lui. Grazie mille.